Ciao, sono Claudia, un operatore olistico. Ultimamente stavo cercando qualcosa di nuovo, di diverso, da poter offrire alla mia clientela. E così mi sono iscritta al corso di istruttori tenuto da Viso in Forma di Petra Miklus. Il corso è strutturato benissimo, anche se era tutto online, non ho sentito assolutamente alcuna carenza nella formazione, anzi, Petra è un'insegnante davvero fantastica, che mi ha accompagnato durante tutto questo percorso e pronta a risolvere ogni mio dubbio, ogni mia richiesta, ed è stata esageratamente precisa, veramente molto molto attenta e scrupolosa. Quindi io consiglio di fare questo percorso e voglio ringraziare Petra per il suo lavoro davvero eccezionale. Grazie Petra.